Come riconoscere se le sarde sono fresche? Molto, molto semplice. Basterà prendere la nostra sarda, dopo averla decapitata e aperta sull'addome, schiacciamo leggermente, diciamo, la carne intorno alla lisca centrale e poi andiamo, insomma, a togliere la lisca centrale, che dovrà togliersi a fatica. Quindi quando la lisca si toglie a fatica siamo sicuri che il nostro pesce è fresco.